La battipagliese domani da Storio Passano alle ore 15 e 30 affronterà l'ostico San Tommaso. Il mister da Pietro Pinto ha preparato al meglio la gara e vuole continuare ad allungare la serie positiva. Dunque domani i tifosi sono chiamati a dare il massimo apporto, come sempre dovranno essere il dodicesimo uomo in campo. Si torna a giocare al Passano dopo la fumata bianca di giovedì sera in comune e questo è certamente un bene sia per la squadra che per la tifoseria. La società ha reso noto anche di avere rescisso consensualmente i contratti con i calciatori Oresti Annese e Mario Di Giacomo. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti, scrive la dirigenza per il lavoro svolto in questi mesi con la casacca bianconera e l'augurio di un futuro provvedo e radioso sia dal punto di vista personale che lavorativo.